Centrodestra sempre più nel caos. In Forza Italia i malumori dovuti a candidature non gradite stanno producendo i primi effetti. L'avvocato Alessandra Mandarelli ritira la sua candidatura al Consiglio regionale del Lazio. Nei giorni scorsi Forza Italia, città di Frosinone, le aveva chiesto di optare per questa decisione, poiché, dichiaravano gli esponenti cittadini, non sussistevano le condizioni per affrontare una campagna elettorale in cui possono essere affrontati con serenità ed efficacia i programmi di sviluppo per l'intero territorio provinciale. In un comunicato la Mandarelli spiega ora le ragioni del suo ritiro, dicendo che si vede costretta a fare un passo non indietro ma di lato, rispetto a certi metodi e che questa decisione non implica in alcun modo l'uscita da Forza Italia. Non posso accettare situazioni che trovo assolutamente incompatibili con il mio modo di fare politica e di operare nella vita civile, dice. Ho scelto di lavorare politicamente in Forza Italia credendo in un progetto di rinnovamento interno che ho appoggiato subito. A questo progetto di restyling ho iniziato a lavorare insieme al sindaco Nicola Ottaviani, quando ancora ero consigliere regionale. Abbiamo affrontato le battaglie per restituire al partito l'immagine differente, completamente rinnovata nella forma e nel contenuto. Amministrazione sana, trasparente, duro lavoro e attenzione per i cittadini hanno consegnato ad Ottaviani per la seconda volta lo scranno di sindaco con il consenso del 57% dei votanti. Ho contribuito con devozione, lealtà personale e impegno disinteressato a quel 57%. Ho registrato, purtroppo, il tentativo di alcuni vecchi metodi di offuscare quel progetto per il pericoloso balzo indietro compiuto con alcune scelte che penalizzano il territorio mettendo al primo posto ancora una volta il dirigismo romano-centrico. Si sta tentando di tornare indietro di almeno dieci anni e da ciò si capisce che si ha paura che quel progetto possa travolgere la politica vecchia maniera. Riesumare personaggi preistorici non ha senso. Il riferimento non esplicito è forse ad Antonello Iannarilli che scende di nuovo in campo in ticket con Maria Teresa Graziani. Non ambisco certo di essere accanto alla Regione o al Parlamento con chi ancora guarda il passato con nostalgia per metodi di far politica e amministrazione desueti e superati. Sono abituata a ragionare e lavorare con uno sguardo rivolto al futuro. Passi anche la mia posizione e il progetto sulla mia persona che a qualcuno evidentemente ha dato anche fastidio. Quello che non si fermerà, dice la Mandarelli, è il progetto generale al quale credo fermamente e per il quale mi sono impegnata e continuerò ad impegnarmi.